Allora Spalletti, buongiorno. Mi ricollego soltanto per una cosa finale alla domanda del mio collega perché volevo sapere se c'era un motivo particolare per cui è stato proprio Zilischi poi a battere il rigore contro l'Entrack di Francoforte. Parla troppo veloce, non riesco. Mi scusi. No, volevo sapere se c'era, come mai è stato proprio Zilischi a battere il rigore contro l'Entrack di Francoforte, se c'era un motivo particolare oppure l'hanno deciso i ragazzi così spontaneamente? L'hanno deciso i ragazzi perché dentro il nostro spogliatoio c'è democrazia, è intelligente quello che dice cose intelligenti, non quello che dite voi. È bravo quello che fa vedere che è bravo, non quello che dite voi. No, faccio per dire in generale quello che succede. E se i calciatori poi decidono di fare diversamente a quello che erano le indicazioni e anche da questo aspetto qui ora sono più tranquillo perché ogni allenamento si fermano a calciare i rigori e c'è stato un miglioramento notevole da quello che sono delle qualità perché anche quelle lì sono delle qualità ma se ci vai a lavorare dentro poi le rendi meno difficoltose se non fanno parte del tuo bagaglio. E lui ha preso rigore, ha preso rigore, poi gli dava fastidio quello che era successo nei rigori precedenti perché ogni tanto giocano su questi discorsi, è andato lì e ha chiesto di poterlo battere, gli è stato concesso a quel punto lì, si sta a Boni perché è corretto così, c'era una tranquillità che gli permetteva probabilmente, allora è bello vedere che collaborano così e che si danno mano aiutandosi in base a quelle che sono le cose da mettere a posto individualmente, partecipano tutti perché di squadra trattasi.